Sta andando la Clevense in questo campionato, direi che sta andando bene. Sì, non pensavo andasse così bene, ci siamo ritrovati primi in classifica, abbiamo fatto un girone d'andata molto divertente, abbiamo avuto l'ultimo mese un po' un calo fisico, ma ci sta, però la squadra ha lavorato bene, il Mistra ha fatto un ottimo lavoro, siamo contenti anche del progetto che stiamo portando avanti, è solo l'inizio, però ci siamo tolti un po' di soddisfazione e mi auguro che l'anno nuovo ci porti ancora di più. Prima partita di Coppa Verona, tra l'altro, com'è andata questa partita? Allora, abbiamo fatto un 0-0 in un campo difficile, dove sembrava difficile giocare su un campo del genere, contro un'ottima squadra, è giocato bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, loro hanno avuto il loro, però diciamo che ci teniamo stretto un pareggio che assolutamente non era facile come partita e abbiamo altre cinque partite, anzi quattro partite, dove possiamo ancora fare la nostra bella figura, è solo all'inizio, però è sempre bello comunque portare a casa risultati positivi. Assolutamente. Invece settimana scorsa è successo un fatto spiacevole per quanto riguarda la vostra pagina Facebook, vuoi farci un commento? Sì, intanto ringrazio Facebook che finalmente ce l'ha ridata e quindi possiamo di nuovo ritrasmettere a partite, possiamo di nuovo raccontare la storia del nostro progetto e questo ci fa molto piacere. dispiace che qualche personaggio abbia fatto qualche segnalazione non appropriata e dispiace che purtroppo Facebook sia gestita anche da algoritmi e quindi possono chiuderci a pagina da un momento all'altro, però i ragazzi che ci hanno lavorato dietro, i ragazzi che stanno facendo un ottimo lavoro sono riusciti a risbloccare tutto e siamo contenti. Benissimo. L'ultima domanda è invece una domanda un po' fuori dai denti. Ti vedremo mai giocare in questo campionato, in questa stagione? Ma oddio, non ho ancora iniziato a fare niente, quindi per evitare figuracce dovrò almeno fare uno o due mesi di allenamento per evitare ogni insulto da parte dei nostri tifosi, però sì, penso di sì, almeno una partita la voglio fare come ricordo, almeno di poter dire di aver partecipato anch'io all'inizio di questa nuova avventura, quindi probabilmente sceglierò forse la partita giusta, ma in linea di massima dovrei farla.